Ieri ero in live, ero in live sull'arena, abbiamo parlato di qualsiasi cosa e a un certo punto è uscito il discorso Teority Rino Me, questo format qui, e mi hanno chiesto ma qual è la teoria più stravagante che però ti è anche piaciuta, tra quelle che hai portato in questo format qui. Un format che è abbastanza giovane però ha visto molte teorie e la mia risposta è stata quella di domani perché sì, questa teoria qua forse è la più interessante di questo format qui. Io comunque ragazzi sono Marra, oggi parliamo di un possibile legame tra Zoro, i suoi parenti, ovvero i suoi genitori, e Mioc e non c'era un posto migliore di Teority Rino Me per farlo. Come al solito per chi non conosce questo format, noi prendiamo delle teorie che girano sul web, spesso i volontari sono teorie che mi consigliate voi, non è questo il caso perché è una teoria che ho trovato io personalmente sul web, teorie che veramente sono assurde, che a volte fanno buche a tutte le parti, si analizzano insieme e poi si prende quello che c'è di buono da ogni teoria, perché alla fine qualcosa di buono si può estrapolare sempre. Questa teoria è stata scritta da un utente che si chiama Evil e anche uno youtuber se non erro, non lo so in realtà, però credo di sì, la teoria è però stata esposta sul suo profilo Twitter ed è girato lo screen, io ho letto quello. Questa teoria parte dalle SBS del volume 105, SBS che sono uscite veramente di recente, difatti se non ricordo male, solo settimana scorsa o quella ancora prima, abbiamo pubblicato qui sul canale un video in cui riassumiamo l'SBS di quel volume lì. Come al solito, visto che questo format si dedica sia all'esposizione che all'analizzare delle teorie, io prima vi dico la teoria così com'è e poi andiamo a prendere quello che c'è di buono. Quindi partiamo dalla teoria vera e propria, nell'SBS del volume 105 viene nominata per la prima volta la famiglia di Zoro, scopriamo che Zoro effettivamente è un membro del clan Shimozuki, quindi è un parente di Ryuma alla lontana e anche di Ushimaru, e in più scopriamo il nome dei suoi genitori, in particolare i suoi genitori si chiamano Terra e Arashi. Quando c'è stata derivata questa genealogia, diciamo così, di questo personaggio così importante, la community si è scatenata, perché per alcune persone, secondo alcuni, è sbagliato esplorare il background di un personaggio importantissimo di fatto come Zoro, solo ed esclusivamente in dell'SBS. La cosa in realtà a me non ha sconvolto più di tanto, perché secondo me Oda ha dovuto soddisfare una fame che avevano i lettori durante Uano, che a quanto pare Oda non ha voluto parlare dell'argomento proprio a Uano, però secondo me apre le porte per un po' di cose, perché Oda non ha lasciato questo SBS così come se niente fosse, perché non lo fa per i nonni di Zoro, ma per i genitori si, ci viene data anche una piccolissima descrizione di quello che gli succede. In particolare viene detto perché muoiono, quindi perché non sono in vita nel momento in cui Zoro, a quanto pare, diventa uno spadaccino da piccolo. Si scopre che la madre di Zoro, che si chiama Terra, tra l'altro ricordate di questo nome, è la figlia di un bandito, di un criminale, e muore per una malattia, mentre suo padre, Arashi, che è appunto il tema principale di questo video, muore in uno scontro tra pirati. Secondo questa teoria, il pirata che ha ucciso Arashi l'abbiamo già conosciuto, ed è un pirata molto collegato alla Lord di Zoro. Di fatti, se noi andiamo a prendere il capitolo 49 di One Piece, come si chiama ragazzi? Si chiama Arashi, che vuol dire tempesta, ed è il primo capitolo in cui viene nominato un pirata importantissimo, pirata che però fa la sua apparizione nel capitolo 50, e questo pirata è Mioc, occhi di falco. Oh, allora, possiamo dire di tutto questa teoria, però è figa, cioè è figa sicuramente, quindi adesso andiamo ad analizzare e vi dico cosa ne penso, ok? Prima di continuare, io passerei allo sponsor, così ce lo togliamo, che è Redok. In particolare, oggi ragazzi, sono felice di annunciare che sta per uscire la nuova linea di poster e inizia con il poster Dinami, che è uscito ieri sullo store e ha già avuto delle vendite, quindi mi raccomando ragazzi, se volete questo poster, io vi lascio il link in descrizione diretto. Avete il 10% di sconto se utilizzate il codice sconto YouTube, sconto che vi ricordo può essere utilizzato una volta al mese, quindi se già l'avete utilizzato nel mese scorso lo potete riutilizzare. E niente, trovate il link in descrizione e nel primo commento. Poi tra l'altro vi ricordo come sempre che con 50 euro di spesa la spedizione è gratuita, e anche che sono tornati i poster di Zoro e Crocodile, così ve l'ho detto e magari a qualcuno di voi che interessavano possono servire. Comunque, lo sponsor è finito, torniamo alla teoria ragazzi. Allora, questa teoria è figa, cioè non possiamo dire di no. Può essere anche campata per aria, perché secondo me collegare un personaggio, cioè collegare una cosa di lore così grande, a un personaggio così importante poi, non lo so, è veramente difficile. Ovviamente non può essere una cosa premeritata, cioè se fosse vero Oda ovviamente nel momento in cui scrive il capitolo 49, vent'anni fa, non va a pensare al fatto che Arashi sarà anche il nome di Zoro. Perché secondo me comunque ci potrebbe stare questa cosa? Perché nonostante la community si sia veramente infervorata quando sono uscite le SBS, proprio perché la lore di Zoro è stata analizzata poco secondo alcuni, il lasciare quelle piccole descrizioni solo ed esclusivamente al padre e alla madre di Zoro, secondo me è un indizio che ci fa capire che qualcosa vedremo in futuro, ok? È un indizio perché comunque per chi ha letto le SBS non è che si parla solo di quei due personaggi, si parla di quei due personaggi, dei nonni di Zoro, di Ushimaru, della moglie di Kozaburo, di Koshiro, e tra l'altro di questi personaggi alcuni neanche hanno il nome, altri che sono quelli della linea genealogica di Zoro hanno il nome ma non hanno la descrizione, su di loro però la descrizione c'è stata, per quello secondo me non è fatta a caso. Il collegamento tra il padre di Zoro e Miok ci potrebbe stare? Allora, noi stiamo parlando ovviamente di un anno imprecisato, cioè nel momento in cui muore il padre di Zoro noi non sappiamo effettivamente quanti anni abbia il piccolo futuro spadaccino, non sappiamo neanche se lui si ricorda di suo padre, anche perché le strade sono due. Se effettivamente è successa una roba del genere, che è stato Miok a uccidere il padre di Zoro, allora lo scontro tra loro due sicuramente assume un altro significato, che è una roba pazzesca. Se Zoro si ricorda di suo padre è uno scontro, diciamo, che porta un po' di rancore, porta una vendetta dentro di sé, ok? Quindi ci potrebbe stare. Dall'altro, se Zoro non si ricorda assolutamente di suo padre, come non ha neanche idea della sua discendenza riguarda Isshimo Zuki, ci starebbe comunque perché si va a riprendere un pochettino il discorso del destino, e tutte queste cose qui. C'è anche da capire se Miok non abbia mai collegato la figura di Arashi con quella di Zoro, perché Miok comunque potrebbe effettivamente aver ucciso uno spadaccino nell'est blu, ragazzi? Semplicemente un personaggio come Miok, dal momento in cui ci è stato presentato, ci è stato presentato con una grande caratteristica, ovvero la noia perché non trova un avversario forte. Dato che comunque da quello che ci fa capire l'albero genealogico fornitoci da Oda, sembra che tra i due genitori di Zoro, quello che ha proprio una discendenza diretta dalla famiglia Isshimo Zuki sia proprio Arashi. Quindi noi dobbiamo dare per scontato, almeno io do per scontato che Arashi fosse anche uno spadaccino. Poi tornando al discorso di prima, Miok è un personaggio che è sempre in cerca dell'avversario che lo può battere. Quando era più giovane, verosimilmente era anche più debole, quindi diciamo che avversari un po' più temibili erano anche un po' più trovabili per Miok. Arashi potrebbe essere stato benissimo uno di quegli avversari, avversario che se effettivamente ha tenuto testa a Miok per un periodo, allora Miok magari se lo ricorda. Dato che comunque le retcon in One Piece esistono, ma esistono semplicemente perché l'opera è veramente lunga e come tutti gli esseri umani ci sta che all'autore ogni tanto gli venga in mente un'idea geniale, perché secondo me se fosse vera sta cosa sarebbe geniale, per aumentare un pochettino l'hype su alcuni scontri, alcune cose che sicuramente vedremo in futuro. Comunque parlando di retcon, si potrebbe anche dire che magari Miok si è sempre ricordato di Arashi, sin dal primo momento in cui ha visto Zoro. E potrebbe essere stato anche questo uno dei motivi per cui Miok abbia lasciato in vita lo spadaccino durante il loro primo scontro. E non soltanto perché Zoro ha espressamente detto che lo vuole battere, ma essendo nell'est blu e avendo visto uno spadaccino dai capelli verdi, probabilmente si assomigliava pure con Arashi, dato che da quello che abbiamo visto più o meno gli Shimozuki si assomigliano tutti, già la somiglianza tra Ushimaru e Zoro è palesa e loro sono molto più lontani per quanto riguarda il grado di parentela, magari proprio questo ha risvegliato qualcosa a Miok. Magari Miok l'ha sempre saputo. Secondo me il tema principale, più interessante, sarebbe proprio quello di capire se Zoro si ricorda di suo padre o sua madre. Non lo so, quello in realtà non lo so, però se dobbiamo vedere un flashback, secondo me vedremo qualcosa di questi due personaggi in futuro, perché non ci dà informazioni così a caso, magari lui qualcosa si ricorda. Concludendo questo video bisogna anche parlare di una cosa importante che in molti hanno fatto notare. Allora, Arashi vuol dire tempesta, e comunque il discorso di Arashi per adesso lo teniamo da parte. Una cosa veramente molto molto interessante è che tutti hanno teorizzato in questo periodo, soprattutto nel documento estera, non credo in quella italiana, è una specie di pattern, diciamo così, per quanto riguarda i nomi delle madri di Zoro e Sanji. Per chi non si ricordasse la madre di Sanji, guardate, io vi dico la verità, nonostante il canale, io ovviamente non mi ricordavo il nome di questo personaggio. Il nome di questo personaggio è Sora, che in giapponese è la traduzione base per dire cielo, ok? Mentre invece la madre di Zoro, l'abbiamo detto prima, come si chiama? Si chiama Terra, ok? Si chiama Terra, quindi tu hai la Terra e il cielo, in questo duo incredibile. Secondo alcuni, questa è una teoria che veramente io vi lascio qua, proprio ve la lascio a fine video da commentare, secondo alcuni, questo pattern ci andrebbe a indicare la futura rivelazione per quanto riguarda la madre dell'altro componente di questo trio, del monster trio, come di solito ci piace chiamarlo, ovvero Luffy, dato che la madre di Zoro si riferisce alla Terra, la madre di Sanji ha un nome che si riferisce al cielo, quella di Luffy potrebbe riferirsi al mare o l'acqua in generale. Così, e qua veramente partono le teorie, e ovviamente secondo me il riferimento tra Terra e Cielo ci potrebbe stare. Io come ho detto più volte in realtà, io non vedo neanche più il monster trio come una cosa vera, cioè per me adesso la ciurma dei Mugiwara per quanto riguarda la gerarchia è un po' come quella di Kaido, cioè c'è l'imperatore e poi ci sono le tre calamità e le tre calamità per me sono Zoro, Sanji e Jinbe e non vedo assolutamente un trio composto da il capitano e Zoro e Sanji, perché loro secondo me sono proprio un gradino molto più basso in questo momento. E per quanto riguarda il mare, se veramente vogliamo vedere un flashback di Jinbe, un ulteriore, infatti sarebbe un po' strano, potremmo collegarci a quello per quanto riguarda il mare. Però ragazzi adesso tocca a voi, dovete commentare con queste due cose, queste due teorie. La prima è quella principale del video, quindi secondo voi c'è un vero e proprio collegamento tra il padre di Zoro e Mioc e poi concludo. Cosa ne pensate di questa specie di pattern tra i nomi delle madri? Fatemelo sapere con un bel commento, perché comunque questo format è basato su questo, è basato sui vostri commenti e sulle teorie, anche se sono strampalate, anche se sono assurde. Comunque sì ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, io sono Marra, questo è Mera Mera, noi ci vediamo domani con una tier list, forse in realtà esce già il capitolo, sto ancora decidendo, comunque in caso questa settimana, nel fine settimana, uscirà il video commento al capitolo, uscirà il video speciale con le vostre opinioni, uscirà tutto e tra qualche settimana avremo anche qualche annuncio importante da fare, diciamo così. Detto questo ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, io sono Marra, questo è Mera Mera e noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti.